Allora, leao da giocare. Erzium è estinto? No! Come hanno fatto a sbagliare il range? Ma è estinto a un milione e sette, tipo. Ma è tanto un milione e mezzo per Cristiano Ronaldo e manco Linky, capito? Nel frattempo facciamo il build al volo. Allora, se mettiamo leao, Ronaldo, possiamo mettere Cancelo. Nuovo, pulito. Marchinhos sarebbe bello da giocare, ma come lo Linky? Una rottura di cazzo. Allora, a me serve un trequartista. Lo sai che Bruno Champions è una bellissima goal? Se non sto a pensare che potremmo mettere pure Salah, eh? Salah Robertson è una grande goal. Metti Magnon in porta. Però trequartista che fai? Ronaldinho trequartista, bello. Sì, però se stiamo allargando. Undici milioni con Ronaldo estinto. Ronaldinho esagerato. Piuttosto potremmo puntare a Kakà. Se no Alex, raga, del Piero. Come idea pure Alex mi piace. E spammamo diri a giro con del Piero. Bello! Donna Rumma sicuramente me linka benissimo. E in realtà... Guarda che in realtà è linkatissima, eh, raga. Cioè, basta metter allenatore Ligan e è fatta, eh. C-blank spostato. Che ruoli... Però gioca solo C-O-C-blank, vero? 8-5-1. Blank c-dc-comprocione. Procione, ragazzi, attenzione, eh. Potrebbe essere una bella rivelazione. Porco Giuda, c'ho un altro procione. Veramente faccio Uzzo. E poi in realtà Blank a passare il pallone è pure discreto. La squadra è una crema, secondo me. Mi sa che sono 8 milioni. Il problema, ma è piallo Ronaldo, raga. Cioè... Cos'è buggato il gioco? Era apparso pure uno. Lo sapevo che tanto andava a finire così. Me l'aveva detto l'altro ieri un ragazzo. Ma aveva detto già tanto va a finire che Ronaldo c'è range basso e... E tocca sniper allo. Un'ora e mezzo. Tra dieci minuti sta a mio nettre. Quanto costa Del Piero? Sai che Del Piero è bello? Faccio godere un po' i miei amici giuventini. Perfetto. Allora, tattiche personalizzate. Leao a sinistra. Ronaldo punta. Del Piero de qua. Salah de qua. Blank de qua. E tattiche sono perfette. Pronti, amici miei? Allora, è possibile che io quando chiedo 25.000 like al video... La gente arriva 25.000, 30, 40, quello che è. Non chiedo like al video 14. Se dimentichiamo... Onesto io mi dimentico. Lo so che vi dimenticate. Lo so, lo so, lo so che non lo fate con cattiveria. Però il like è quel numero, capito? Che quando vedi tanti like... Cioè, capito? Il mio pistolino, no? Cioè, vado a vedere i mi piace e vedo... Uh! Io ho il pisello che un pochino si addrizza, capito? Non si è più quello di una volta. Dov'è CR18? Diglielo. Mi costringono a mettere i numeri giusti, se no me minacciano. Io non gioco da due giorni, mi pare che non gioco da un anno. Porco Dio. Ma non è fallo? Arena, è un Ardenbot. Non mi sta piacendo il comportamento comunque dei miei giocatori attualmente. Devo dirvi la verità. Bravo Blank, bello pulito. Dai, dai, dai. Riprendiamo un attimo il ritmo. Questa è la prima del giorno. Devo un attimo scaldarmi le mani. Vengo da 12 ore di Spider-Man. Porco 2. Mo' ammazza tutti questi in campo. Altro che... Blank al centrocampo però già sembra molto più pulito. in confronto avvierà, per ditte. Bravo Cancelo, bravo. So a cominciare a tirare, a tirare. Eh no, non riesco a tirare a giro con le A.O. Penso sia impossibile. Barbone mi aveva detto. Tira d'esterno con Bruno Fernandes. Fida de za. Leao! Ce l'ha! Ce l'ha, ragazzi! Eh ma qua tocca a tirare per forza da fuori. C'è una 20 in difesa, sto pischiello. Regà, tocca a provarci per forza col tiro da fuori. Il problema è che questo casca male. Io da fuori so il maestro. Il mago del tiro da fuori. Gioco solo così. Vai Mohamed. Alex. Vai Cristiano! Cristiano! Eccolo! Con la maglia del Real poi. Che bello è. Vabbè dai, un buon primo tempo su. Leao. Rafa! Pulito! 1-0! Let's go! Regà, vi devo far vedere una roba però, aspettate. Oggi mi è arrivato un pacchetto. Grazie a mamma S Roma. Ormai manco più le magliette mi devo comprare. Me le manda la S Roma. Ehm beh. Quanto cazzo è bella quei. Mamma mia. No, senza nessun giocatore che se no c'è rischio come andiamo via. Mettitela. Me la metto subito. Nuovo acquisto della magica. Sanno 17. Nuovo acquisto della grande magica Roma. Mamma mia quanto è bella ragazzi. Voglio tre godersium. No, regà, ci mette troppo tempo a tirare in... No, regà, assurdo. La vara. Bel miracolo. Bello. Mamma mia che crossetto Alex. Mira porco Dio. Ci avete sei ore a stoppare un pallone a tirare. Antecipetta. No, regà, c'ho tutto il timing infagappato con Ronaldo. Bravo Alex. Pulito. Alessandro. Del Piero. Vedi Cancelo. E leva da Neymar, porco Dio. Stai in infermeria. Levati. Alex. Vede Cristiano. È partito. Noia poi le va. Mamma che tronco. Mio Dio che tronco ragazzi. Tipo una delle cose più tronche che io abbia mai visto. Ma è una troncata regà secolare eh. Leao chiede lo scatto. Chiede l'1-2. Ronaldo lo serve ora che è perfetto. Bravissimo Cristiano. Raffa Leao. Bel mostro Raffa eh. Ronaldo quando viene spostato dal pallone cioè non è che dici riprova a prenderlo. Non si muove. Se fa almeno tipo 2-3 metri anno a lungo e poi dopo c'è si richiappa. Blank. Eh la trivela ce l'hai però eh. E la trivela ce l'hai però Cristiano. Oh no. Eh regà un po' lentino Cristiano. Dai un po' lentino regà. Dai su ma non è che stiamo tutti così a fesomiglie da velocità. Cristiano. Cristiano. Comunque ce l'hai più velocità di Rice. Perché cazzo non corri? Rincoglionito. Vai da Alex. Dai niente Ronaldo sta fermo in mezzo al campo. Eh Ronaldo. Questo è Ronaldo con inserisci di alle spalle ragazzi eh. Hai visto che inserimenti? Mamma mia. Ma quanto si inserisce sto ragazzo? Niente. Carco Dio. Eccolo. Eccolo. Lo fa. Lo fa. Sì però regà porco Dio che fatica per fare due skill là in mezzo. Vai l'ho. Tagliata dentro e poi dalla Cristiano così. Questo è un bel gol. Bravo Cristiano. Bravo. Becchi in altro code esterno con Bruno. Va ho deciso. Oddio. Ronaldo no fair play. Lui vuole le stats. Che gli frega a lui se non sta a giocare l'avversario. Leonardo vuole le statistiche. Vuole batte qualche altro record strano che solo lui conosce. Pronti. Ok. Si fa contrastare dalla CPU ma va bene. Non è corretto. Cristiano Ronaldo non è corretto. Non gli interessa nulla. Lui vuole il record. Festeggia il suo record Cristiano Ronaldo. Ah regà Ronaldo porco Dio. Me l'ho frullato a destra e a sinistra. Ma piacerti voli assurdi. Via. Next. Bello che l'avevo pure intercettato. L'avevo letto e intercettato. Non è bastato. Potrebbe batte con Der Piero. E' bellissimo. Un bel 2-0. Un'altra golosa scaletta fatta dal nostro avversario. Ci sta. Ci ha messo sei giorni però è andato. Con calma. Con calma. Alex. Certo. La CPU grande. Bella azione. Bel gol. Però porco Dio. Cioè manca a far così. Buon due gambietti. Via Der Piero. Dentro la Hansen. Però regà non posso. Non posso. Dai ma che cazzo. Ma che cazzo. Quante è di recupero? Ok Non culo a sto francese de merda Porco Dio mi tiene una sega Sì ma la partita faceva schifo ragazzi Porco Dio Inguardabile Ogni rimpallo era sua Era assurda sta roba Meno male che c'era l'ansian Dai porco Dio Salah Ma quella roba con R1 Con Salah fa cacare Ma non si muove Ma fa schifo sto Salah Dio cari Cioè questa roba è rotta su Musiala Su Salah Ma sta affancazzata sto Salah Un bel cross di Haaland Per un bel gol al volo di destro di Diab No raga ma che Guardate Ronaldo che cazzo stava a fare Porco Dio si era impicciato Non se sa Si era impicciato raga Bravo Cree Forza Madonna quanto mi sto impegnando Metto l'ansian nel regale Mi fa cacare Mi fa veramente cacare ragazzi Oddio Salah non se muove in confronto Vai Cree Porco Dio Cree Vai Rafa Gala va Guaste grazie del Prime GG ragazzi Buona Guarda pure questa è una partita del merda eh Voglio continuare a provare un attimo sto Salah In perterrito Io so de coccio ragazzi Io so de coccio Dovrei volare con sto R1 Salah Non cuore Questo è buono però eh Sa come sto Ronaldo 1.5kk me sembra un po' too much Si è un po' troppo Cazzo sto Bruno pulito Donna c'ha 99 di rigore del Piero Basso a sinistra Ma è Raffaele Tutto cuore Walker Ma che golletto è Ho capito No Che culo Godo Mamma sto Leao Mamma sto Leao ragazzi Sto gol è vita A giro era il tiro eh Cioè io ho tirato a giro eh Guarda che ha preso Ma Ma che Regà Leao mio si è completamente disinteressato Cioè io se non li comando la mia cpu Porco dio non gioca a pallone Se io non li comando la mia cpu Si fai cazzi loro Un altro esternetto Qua hanno due sbagli Madonna Madre del signore Sti cazzo dei cod esterno Con Bruno Fernandez Regà infermabili Dai regà 7-0 Forza Questa aveva già premuto start e quit Questo quittava regà Lo segna per forza È scritto nelle stelle Una bella scaletta pure noi Lo facciamo pure Questa è buona come Il panettiere a Natale ragazzi Allora io scorsa settimana Ho detto oddio Abbiamo vinto il game per il 7-0 8-0 Nulla può andare storto Ne ho perso il 2 di fila Ho fatto uscire il portiere dei 6 metri Sperando che uscisse Invece ho fatto il donna ruma classic Gigio Olè Al mio pure Bello all'iscio Il grande Rio Ferdinand Chissà com'è Porco Dio Contri i turchi Verdi sempre La lada è destra La regà è A magli estremi Estremi rimedi Porco Dio Varanno un po' a vincere in palli Tutta la partita Mi sono otto pure il cazzo Eh regà è assurdo Oh non faccio un tiro Che non sia deviato Da un giocatore suo Ma è meno cp No dov'hai Perché te la lunghi così Non mi dico è regolare Perché porco Dio Marchignoso Lo teneva Eh bro È assurdo Quanti sono difesa Dai forza porco Dio Mi hanno detto A fammi Elena Quanto era scritto regà Contro i turchi Tocca perde Cioè 8-2 Che nervoso Dio cane Oh È buono il fuorigioco È buono Un'altra settimana Un bello 8-2 Dai ragazzi Ci sta dai Bello Chissà come mai Oh ma dai Ma perché Tutto attraverso Dai Dio porco 8-2 Wow Che bello Bravo Donnarumma Eh ma sto a perdere Perché la skill Dell'altro È incredibile Cioè Zero call subiti Perché in difesa Lui in fenomeno Clamuroso Quarantasettesimo Ma che problema Una partita equilibrata 3-0 per lui È giusto E io l'unica cosa Che posso fare adesso È continuare a giocare Questo schifo di roba Perché porco Dio Se vado su Spider-Man Mi fa schifo pure Spider-Man La community dice Che il gioco È un pay to win Questo dice La community Tu riguardati questa partita E dimmi che il gioco È un pay to win No ma tanto Questa la vinco Questa la vinco Vado 9-3 Come settimana scorsa E finisco 16 Immaginate io per segnare Devo dire L'esterno destro Porco Dio verde Da 30 metri Perché da davanti La porta Cristiano Ronaldo Non segna Sanse Ci sta Giusto Mi sa che Stanno faccia La carriera Col Palermo Lo ho detto ragazzi Non è che Pare che bevio per culo Abbiamo perso Quelle tre di fila Come settimana scorsa Mo dico Basta giocare a FIFA Adesso ragazzi Dai andiamoci a divertire Da qualche altra parte Domenica ritorno E faccio E faccio 16 Key win Non è che c'è molto La D È lo stesso Pat di settimana scorsa Uguali denti Non è che c'è tanto La D Finiamo domenica